allegri nella speranza pazienti nell'afflizione e perseveranti nella preghiera romani capitolo 12 versetto 12 molto spesso l'uomo è allegro per le cose che possiede ed anche per quelle che un giorno spera di raggiungere e possedere purtroppo però queste cose offerte dal mondo e dalla vita sono passeggeri e fugaci e anche quella allegrezza è il risultato delle cose materiali e sentimentali tutto quindi è precario e passeggero non così però per il cristiano per colui che ha conosciuto cristo le realtà capaci di generare allegrezza sono infinite ed egli può far festa ogni giorno per l'abbondante grazia che ha ricevuto e che possiede il suo nome scritto nel cielo egli è il figlio ed erede di dio code della sua assistenza e della sua provvidenza e gioisce per la benedizione della sua presenza anche se vengono le prove e le tentazioni il credente continua ad essere un vaso pieno dell'eccellenza della grazia di dio ed ha tutta la ragione di essere sempre allegro non vuoi ricevere questa allegrezza